È come se mi avessero violentata la figlia, insomma, non sta né in cielo né in terra. Questa è una cosa che per me è inaccettabile. Io che abito dall'altra parte del Ticino, perché abito a Besate, mi sembrava di averli sotto casa. E non deve più succedere nel modo più assoluto. Guai a Dio il mondo se dovesse ricapitare, perché mi arrabbierei molto e andrei a far valere le mie ragioni da qualsiasi parte. Roma è lontana, ma non poi così tanto. Non mi facciano arrabbiare, perché con 14 guardie noi dobbiamo sopportare l'onere di un compito che è fuori misura. Per fortuna abbiamo 300 volontari che ci supportano sempre. Chi istituzionalmente dovrebbe essere evocato a queste cose, stavolta è stato assente. E la cosa mi fastidisce non poco, perché io in due giornate non sono riuscito a mettermi in contatto con le istituzioni. Ci sono ancora una ventina di irriducibili al Bosco della Lite nei pressi della frazione sforzesca di Vigevano. Ultimi rimasti del migliaio che nel weekend ha animato il rave party durante il quale un ragazzo di 20 anni è morto annegato nel Ticino. In attesa che anche questi giovani le vino le tende è iniziata la conta dei danni. I ragazzi hanno raccolto i rifiuti nei sacchi e questo renderà più semplici le operazioni di pulizia, ma rimane da raccogliere il tutto. La competenza è del parco, ma è vicino l'accordo con Comune SM. Quest'ultima metterà a disposizione i mezzi, mentre un gruppo di volontari, reclutati tra servizio civile, guardia parco e associazioni, si occuperà della mano d'opera. Si stima una camionata di rifiuti. Il problema più grosso però sarà nel recuperare l'aria dal punto di vista ambientale. I danni non sono visibili, ma risultano molto ingenti. Gli animali, spaventati dalla massa di gente e dalla musica ad altissimo volume, sono tutti scappati. Due caprioli, per fare un esempio, sono stati avvistati in centro a Gambolò e uno è morto finendo in un canale. È evidente che questi erano animali che, disturbati dal macello che sono trovati qui, si sono spostati all'esterno dei boschi fino ad arrivare in paese a Gambolò. I mammiferi sono fuggiti terrorizzati, ma probabilmente potranno tornare relativamente presto. Non così gli uccelli, disturbati nel periodo di nidificazione. Secondo gli esperti, occorreranno anni per tornare a vedere alcune specie da queste parti. Noi ci abbiamo messo anni per riuscire a trasformare questi che erano più peti, questi boschi che erano boschi degradati, in aree che avessero una valenza naturalistica importante. E un danno come quello che adesso andremo ad accertare si recupera in tempi molto lunghi e dell'ordine di anni. Le guardie ecologiche volontarie hanno combinato multe per 6.000 euro e sequestrato attrezzature musicali per 25.000 euro. Gli organizzatori erano disposti a pagare le sanzioni in contanti a dimostrazione del giro d'affari che c'è attorno a queste feste abusive. In tutto mentre le forze dell'ordine sono state costrette a limitarsi nella gestione degli arrivi per evitare ulteriori problemi di ordine pubblico. Non riesco a capire comunque come nel 2017 si possa ancora lasciare fare queste cose in un ambiente protetto, un parco regionale. Le forze dell'ordine purtroppo, devo dirlo con rammarico, con le leggi italiane hanno le mani legate. Non hanno potuto fondamentalmente fare più di tanto. Anzi, hanno rischiato sinceramente loro di persona nel tentativo di bloccare o comunque di mandare via parte dei partecipanti.